Ne raddoppio, ne nuovo impianto, ma solo l'ottimizzazione di quello esistente a San Zeno. L'argomento è tornato prepotentemente all'attenzione in Consiglio Comunale con l'interrogazione di Gianni Mori, capogruppo di Sinistra per Arezzo, e Marco Tulli, capogruppo di SEL. Torna dunque all'attenzione il tema del piano interprovinciale di gestione dei rifiuti del lato Toscana Sud all'esame del Consiglio Comunale. Mori, Tulli e Fausto Tenti, che è il segretario provinciale di rifondazione comunista, propongono quindi una terza soluzione rispetto alle due finora presentate, cioè la completa messa in sicurezza dell'attuale impianto con l'adozione e l'implementazione delle migliori e più recenti tecniche di abbattimento degli inquinanti in uscita, finalizzate a renderlo meno impattante possibile sulla salute e sull'ambiente, senza procedere a nessun incremento della potenzialità termovalorizzatrice, essendo sufficiente l'attuale per circa 40.000 tonnellate all'anno. Di fatto è uscito, come ho detto in Consiglio Comunale, dalla porta il raddoppio dell'inceneritore, ne entra dalla finestra un altro con 10.000 tonnellate minori e si va su queste popolazioni, si va su tutta la cittadinanza di Arezzo, parliamoci chiaro, a insistere con un nuovo impianto, col rischio di avere un nuovo impianto, dopo 15 anni come provincia di sobbarcarci col podere rota e l'inceneritore di San Zeno, gran parte dello smaltimento di tutta la provincia e 100.000 tonnellate all'anno da Firenze. Io credo che questo, il Comune di Arezzo, e questo l'ho detto anche in aula, ha battuto i pugni forti per il 118, lo deve fare anche per l'impianto di San Zeno, perché ci sono gli elementi per poter essere coerentemente, chiedere che non si vada a un nuovo impianto di San Zeno. Il Comune di Arezzo, in tutte le assemblee, prima dell'Ato 7, quando era lato solo di Arezzo, e ora di Ato Sud, non ha mai preso posizione, né mai votato contro, né mai astenuto, contro una delibera dell'assemblea dei sindaci dell'Ato Sud contro il nuovo inceneritore di San Zeno. Chiaro? Io vi presento tutte le delibere dal 2007, da quando c'era Banchetti, e tutti gli assistori susseguenti, che sono andati a rappresentare il Comune di Arezzo, a Siena, nell'assemblea dei sindaci, nessuno di loro ha mai detto niente, e ha sempre votato per i distriquamente, come gli diceva il direttore dell'Ato, Ingegnere Corti e il Presidente Nannini. Non hanno mai proferito parola in sede formale di assemblea dell'Ato Toscana Sud contro l'inceneritore nuovo di San Zeno. Mai! Ma-i!